Salve a tutti, bentornati in un nuovo video di Polvere e Fumetti, la vostra forse rubrica preferita dove vedete diventare più povero ogni settimana della precedente. Allora, questa settimana è una settimana un pochino più snella rispetto al solito, nel senso che bypassiamo, balziamo Edicola e Giappone perché sono uscite soltanto cose americane. Quest'oggi guardiamo soltanto alla bandiera stelle e strisce. Come al solito in descrizione trovate i link per acquistare questi ed altri fumetti che vi consiglio sempre su Amazon, se lo fate appunto tramite i link che vi fornisco, a me arriva una piccolissima percentuale che come al solito a voi non toglie nulla, se vi va appunto a me arriva qualcosina, però se e solo se quello di cui mi sentite parlare vi incuriosisce. Cominciamo con gli spillati che sono soltanto due, sono come al solito le uniche serie Marvel che seguo ormai in questo formato, che sono ovviamente la serie di Thor con il rilancio di Donny Cates appunto sul tonante dopo aver raccattato il testimone da Jason Aaron. Di Donny Cates ne abbiamo parlato settimana scorsa parlando di Venom, se non avete ancora visto il video ve lo lascerò magari nelle schede o comunque lo troverete alla fine del video. E mi piacerebbe sapere appunto cosa ne pensate un po' sia del lavoro di Cates in generale in Marvel, per ora a me sta piacendo molto, il mio giudizio per quanto riguarda il tonante è sempre molto tenebrato dall'amore che io provo per questo personaggio, per cui mi faccio sempre andare un pochino tutto bene insomma. Però per ora Cates sta andando molto lentamente, si sta prendendo un po' i suoi tempi, spero che questo voglia dire che ci aspetta una bella botta e mi aspetto che prima o poi anche su Thor si arrivi a quella inclusione con tutto il resto delle testate Marvel che appunto Cates sta gestendo e ha gestito nel corso di questi anni, insomma mi piacerebbe vedere un po' come lo incastra all'interno del suo disegno. E poi è uscito come al solito il 41esimo numero di Spider-Man, appunto serie in spillato 5€, questo mi dà un pochino fastidio devo dirlo sinceramente, appunto spendere 10€ per appunto i due numeri mensili di Spider-Man. Però il discorso per me è sempre il solito, alla fine compro soltanto queste due serie in spillato, non seguo nulla di DC, non seguo nessun'altra serie Marvel, compro i cartonati, compro quelle serie lì. A me non cambia assolutamente, cambia poco e niente, quindi me li porto avanti comunque, sto zitto e dico grazie per citare un amico. Passiamo adesso invece a Panini Comics, divisione però cartonati e per quanto riguarda invece le 100% HD, con una serie che è stata annunciata qualche mese fa e che è già uscita, non mi aspettavo che fosse già fuori. Di cui avevo sentito parlare molto bene in America, mi pare che si aveva anche vinta qualche premio agli Eisner, se non dico vaccate. Una serie in age, se non sbaglio, adesso mi è venuto questo dubbio ma penso proprio di sì, che è Die, di Kieron Gillen e Stephanie Hans, con i colori di, adesso lo becchiamo subito, Clayton Cowles, che non conosco minimamente. Serie appunto pubblicata, questo è il primo volume in cartonato pubblicato da Panini a 21€, prezzi sempre un pochino altalenanti che ballano tantissimo. I cuori spezzati del fantasy, di cosa si tratta? Leggendo l'intro, io l'ho comprato un po' perché appunto ne ho sempre sentito parlare, dicono che sia veramente molto bello, stavo per cominciare a seguirlo anche in americani, in brossorati americani, però poi ho visto appunto che la Panini se ne è acquisita i diritti. L'intro mi ha ricordato un sacchissimo Jumanji perché sembra Jumanji in salsa fantasy, fondamentalmente ci sono questi ragazzi che partecipano a questo gioco di ruolo, giocano appunto a questa partita di un gioco di ruolo fantasy e fondamentalmente vengono risucchiati letteralmente in questo mondo. E dopo 30 anni, esatto, come dice la trama dietro il volume, dopo 30 anni alcuni di questi ragazzi perché ne riapparano tutti tranne uno, appunto ritorna nel nostro mondo portandosi dietro tutta una serie di conseguenze appunto che ha portato questa loro sparizione. C'è una cosa che mi fa intrippare un sacco, che probabilmente farà intrippare anche i giocatori di ruolo, cioè che viene continuamente ripetuta l'immagine del dado a quattro facce, del dado piramidale per capirci, oppure qua sulla costina voi non vedete ci sono dei puntini rossi, ecco sono fondamentalmente la ripresa, ah no sembravano dei dadi ma in realtà non lo sono, probabilmente sono le pedine invece del gioco, ecco molto più probabile. Però qua invece sì, per esempio, appunto sembrano proprio i papercraft che vi trovate su internet per stamparvi i dadi, una roba stranissima. Allora, Kieron Gillen, Kieron Gillen è un autore con cui ho veramente un rapporto molto, tanto a volte troppo conflittuale perché mi sono scottato veramente tantissimo leggendo la sua serie di Iron Man che non mi piacque per niente, un po' perché non mi prendeva la storia, un po' perché c'era i disegni Greg Land che insomma non è che sia proprio il mio autore preferito tutt'altro. E ho provato a leggere di recente Once and Future, sempre appunto che gioca sul fantasy, che anche lì mi sono detto boh ma che è sta cosa, che cos'è, non ho capito, qualcuno mi spieghi. Mentre invece The Weeknd Divine è una serie che spacca fondamentalmente, non sono mai andato avanti però è veramente molto molto interessante anche come presupposto, è veramente molto molto intrigante. Per cui ho detto diamoci un'ennesima possibilità, ripeto, io l'ho sempre visto sui cataloghi di Ho Visto Cose, l'ho sempre visto, poi ho visto appunto se non sbaglio che si è beccato qualche Eisner negli scorsi anni, tutto sommato anche la disegnatrice, questa Stephanie Hans, che ricordo per aver lavorato molto in Marvel, mi ricordo le sue serie di Angela, che tra l'altro se non sbaglio, sì no esatto, questo è proprio lo stesso team creativo di Angela, la serie Marvel appunto, sia quella, la serie standard, sia quella durante Secret Wars, che faceva la cacciatrice di streghe, l'inquisitrice di streghe, e vediamo, vediamo un po' come sarà, diciamo che ho buone aspettative, però... Kieron Gillen, sarebbe l'ennesima delusione da parte di Kieron Gillen per quanto mi riguarda, boh, e vedremo un po'. È uscito poi anche il secondo numero di un'altra serie di cui vi ho parlato qualche tempo fa, che è la serie di Il Billy, un'altra serie di Eric Powell, che è uscita insieme, il primo volume uscì insieme al primo volume, al primo formato deluxe della serie appunto di The Goon, il capolavoro un po' di Eric Powell, e adesso è uscito anche il secondo numero. Questa è una serie molto molto interessante, che ha dalla sua parte un setting molto molto affascinante, perché le avventure di questo rondel, di questo cacciatore di mostri, streghe, spiriti, appunto, avviene, le sue avventure avvengono su questa America montuosa, un'America isolata dalle grandi città, dalla civiltà stessa, sui montagni degli Appalacchi, insomma, un personaggio molto molto interessante, con dei disegni molto molto particolari, con questa palette di colori, oserei dire, quasi molto molto spenti, ma allo stesso tempo molto freddi. Queste serie che appunto procede per ora a episodi autoconclusivi, io avevo capito che... Ah no, esatto, è una serie che si compone di 12 spillati, di 12 serie, infatti Panini mi pare che abbia già annunciato, sì, l'ha proprio annunciato anche il terzo volume, che dovrebbe concludere un po' tutta la serie. Tra l'altro vedo che c'è anche un numero finale disegnato da John Arcudi, l'artista dietro di Orambol, un'altra serie molto molto interessante, sempre pubblicata da Panini in questa linea 100% HD, tra l'altro spero che si veda qualcosa, che non vada fuori fuoco. Insomma, è una serie tutto sommato molto molto interessante, niente di particolarmente trascendentale, si vede che era questa idea che appunto Eric Powell aveva in testa, voleva sviluppare, ripeto, il setting è molto molto interessante, il folklore, i personaggi, le creature che Ronder appunto incontra nel suo viaggio sono molto affascinanti. Procede appunto in questa maniera a episodi autoconclusivi, che è un bonus e un malus allo stesso tempo, per cui neanche lui si deve troppo impegnare, tra virgolette, a creare una storia, inventarsi una storia, una lore, diciamo, sebbene ci sia una lore all'interno di questa serie, volume al prezzo di 16€, giusto per concludere. Passiamo a Marvel, per cui è uscito un altro volume, un'altra serie invece Marvel questa volta, di un personaggio che fa parte dell'underground, proprio dell'universo Marvel, questa è una serie di cui avevo pizzicato il primo numero in americano, sembrava molto interessante, perché anche il team artistico è molto molto interessante, e sto parlando di Ghost Rider, questo è il rilancio fresh start di Ghost Rider, il re dell'inferno, scritto da Ed Brisson, tra l'altro vedo che è un ciclo unico, perché non ha una numerazione, dovrebbe essere esatto, sono 1, 2, 3, sono 5, 6 numeri, appunto della serie, volevo cercare qualche riferimento di Ed Brisson, perché al momento non mi viene in mente nient'altro, ma comunque è uno degli scrittori, mi pare più recenti, di Wolverine, e ripeto, è una serie che si collega alla conclusione di Dannato, la serie appunto pubblicata che uscì sul, Dannazione scusatemi, che uscì sulle pagine di Doctor Strange, in cui appunto il nostro Ghost Rider veniva chiamata, c'era questa chiamata alle armi da parte di alcuni personaggi per salvare Las Vegas, che era diventata un vero e proprio enorme casino, però si giocano le anime per farvi capire, un casino in mano a Mephisto, insomma, tutto questo genere di cose aveva portato, questa vicissitudine, aveva portato il nostro Johnny Blaze, il nostro Ghost Rider, a rivestire i panni di Re dell'Inferno, un incipit molto molto interessante, il primo numero comunque mi aveva intrigato, qua sembra che si viaggi anche un po' nella storia proprio di Ghost Rider, quello che mi piacerebbe capire è se è una serie che poi prosegue, o se si conclude, no, molto probabilmente è soltanto un piccolo arco narrativo, insomma, creato da questi due autori, tra l'altro non c'è soltanto Aaron Cuder, che a me piace molto come disegnatore, ma c'è anche Juan Frigeri, che sinceramente non conosco, ma che sembra essere un artista che prende un po' tanto, anzi, da un altro disegnatore Marvel che è Olivier Quapelle, non so, il suo modo di realizzare i volti mi dà proprio l'impressione di rimando appunto a Olivier Quapelle, non so se è una sensazione mia o se effettivamente magari c'è un qualche tipo di trascorso fra questi due autori, però appunto me lo ricorda molto, appunto su queste pagine. Non so ancora nulla, magari dopo che l'avrò letto ve ne potrei parlare, e vedremo, ripeto, Aaron Cuder è uno dei motivi per cui mi ci sono un po' buttato, perché è veramente eccezionale, è veramente un artista che apprezzo veramente molto, ripeto, spero che riusciate a vedere qualcosa, e vedremo un po' appunto come sarà, guardate che qua, che bellezza, che bellezza. Vedremo, vedremo, no, non si dovrebbe vedere, si dovrebbe vedere molto poco, mi spiace. E poi concludiamo con un acquisto che è stato annunciato ed è uscito veramente, praticamente in nanosecondo, ma è una cosa di cui sono veramente molto, molto contento, che è un'uscita di Magic Press, e che uscita direi, perché evidentemente dopo la pubblicazione degli Omnibus di Hellboy, Magic Press è presa talmente bene, che ha deciso di ristampare molto probabilmente anche tutto l'universo di Hellboy, sempre in formato Omnibus, e quindi abbiamo il primo volumone di Hellboy and BPRD, questo raccoglie gli eventi dal 1946 al 1948, e dentro abbiamo, ciao, abbiamo Mike Mignola, il già citato John Arcudi, Joshua Dissart, Paula Zaceta, Gabriel Ba, Fabio Moon, Max Fiumara, Dave Stewart, chi più ne ha, chi ne metta, insomma per un volume veramente mastodontico, che raccoglie quelle che sono le vicissitudini di questo bureau per la ricerca e la difesa contro il paranormale, appunto di cui fa parte anche il nostro Hellboy, il nostro Red, che abbiamo visto anche nei film, insomma lo conosciamo molto molto bene, di questa serie esistevano, come è stato per Hellboy, tutta una serie di volumetti brossurati, che tra l'altro mi sembra che siano anche abbastanza tantini, e appunto Magic Press sembra avere l'intenzione di ristampare questa serie, anche in questi Omnibus molto molto belli, e poi sono anche abbastanza cicciotti, cioè ce n'è di roba da leggere, ce n'è di sostanza qua dentro, e anche proprio a livello di nomi avete visto che parliamo di gente di tutto rispetto, non sapevo per esempio che Paula Zaceta avesse prestato le sue matite per disegnare alcune storie di Hellboy, e sono molto molto contento, perché insomma sembra veramente che si trovi a suo agio su questo stile, anche John Arcudi insomma, o Fabio Moon, cioè wow, veramente wow, non vedo l'ora di leggerlo, tra l'altro visto che è uscito questo mi sono detto dai forse è ora di smaltire anche gli altri Omnibus, che tra l'altro dovrebbero riempire questo scaffalino qua che vedete è costantemente vuoto, ma appena li avrò finiti leggere troveranno il loro posto in questo piccolo antro, fatemi sapere come al solito cosa avete letto, cosa vi siete comprati questa settimana, mi raccomando i commenti sono qua sotto, fatelo, in descrizione vi ripeto che trovate alcuni di questi fumetti, anzi sì, quasi tutti questi fumetti su Amazon per poterli acquistare appunto tramite il mio refer, se vi va di farlo tramite appunto questo link a me arriva, ve lo ripeto, una cifra simbolica, che però a voi non aggiunge nulla, non mi viene tolto nulla assolutamente, se vi va di farlo mi farebbe molto molto piacere, e sempre in descrizione trovate i link invece per i miei contatti, come sempre Facebook e Instagram sono i social che cerco di usare il più possibile, scarsamente, ma ci provo, io vi saluto, ci vediamo sicuramente mercoledì, con una recensione di un fumetto che si è da poco concluso in Italia, e spero anche questa settimana di riuscire a fare il video per il venerdì, ci provo, ve lo prometto che ci provo, ciao belli! Ciao sérieux! Ciao!